Lei ieri è stato a Roma, ha incontrato il ministro Patuanelli, di cui ci ha riferito stesso ieri al termine dell'incontro, ma non è stato l'unico incontro con esponenti del governo. Ci può dire chi ha incontrato, quali sono stati i temi affrontati nella giornata? Come avevo detto anche pubblicamente, era mia intenzione riallacciare immediatamente le relazioni istituzionali col governo Conte II, perché ci sono un sacco di dossier, di lavori, di report su cui bisogna lavorare. Quindi già dalla scorsa settimana ho cominciato incontri importanti, sono diversi, ne cito qualcuno. Sono stato dal vice ministro Laura Castelli con cui abbiamo ripreso il discorso sul tema del debito degli enti locali. Ho avuto un incontro molto importante con il ministro Spadafora con cui abbiamo parlato di giovani, ma soprattutto di sport, per quello che oggi Napoli rappresenta per lo sport, per quello che ha fatto con le universiadi, e per quello che vuole fare con gli impianti sportivi. Poi ho fatto anche una serie di incontri, ovviamente politici, importanti. Ieri ho visto il ministro De Micheli per quanto riguarda le infrastrutture, ho parlato in particolare di Metropolitana, perché c'è l'allarme fondato di Cascetta, perché lo Stato non dà denari da molto tempo a Metropolitana, quindi ho fatto capire al governo che la deadline è Natale. Devo dire che ho trovato un interlocutore molto attento, ho un grande disponibilità e credo che affronterà nella maniera adeguata alcuni temi che sono esclusivamente burocratici e amministrativi. Non c'è un problema di finanziamenti, sono tutti coperti. Sono un problema di lentezza nel pagamento, nel liquidare le somme che spettano a Metropolitana da parte del governo. Poi ho avuto un incontro anche molto importante, interlocutorio, a breve verrà nella città di Napoli con il ministro per il Sud, di cui abbiamo parlato chiaramente di bagnoli, di vele, di coesioni e di tutto ciò che c'è da fare per la nostra città. Ho fatto anche altri incontri rilevanti, altri farò la settimana prossima. Poi ho incontrato il ministro Patuanelli, con cui non abbiamo parlato chiaramente, soprattutto di Whirlpool, ma non solo. Io ho anche sottolineato di riprendere subito il dossier sulla delocalizzazione dei depositi petroliferi dall'area orientale, che tra l'altro è un tema molto caro anche al suo partito. Quindi abbiamo ripreso in modo assolutamente proficuo, a livello altissimo, il dialogo istituzionale. Mi par di capire che si sta procedendo nel lavoro migliore. Sono stato anche al Ministero dei Beni Culturali, dove abbiamo parlato di tanti temi, contratto di sviluppo, la cultura in città, il Teatro San Carlo e tante altre cose. Quindi io sono molto soddisfatto di queste interlocuzioni. Chiaramente, come sempre, la valutazione poi spetta ai fatti e non solo alle parole. Se le parole hanno un valore, l'inizio del dialogo tra la città di Napoli e il governo, penso che sia stato sotto le migliori auspici.